Già un po' di nuovo ragazzi per i cavoli e benvenuti in questo nuovo video Juveno Sudinese 2-0 Ragazzi, prima di tutto scusate il ritardo Ero andato in un bar a vedere la partita con i miei amici ragazzi Sono appena rientrato a casa, ho potuto fare il video soltanto adesso Comunque ragazzi, scusate il ritardo, detto questo ragazzi Partita vinta meritosamente, qualche altro gol secondo me Potremmo segnarlo ragazzi, però l'importante cosa che abbiamo vinto Abbiamo dimostrato che dopo la mano sconfitta in Supercoppa ragazzi Stiamo potuti risuscitare senza problemi ragazzi Abbiamo dimostrato che quando vogliamo la difesa buona Perché oggi la difesa ha tenuto abbastanza bene Quasi tutti i tiri deviati, qualche tiro in porta L'Udinese ha cercato di farlo, mentre Scesni oggi non ha fatto minchiate Grazie a Dio non ha fatto minchiate ragazzi Perché se faceva un'altra minchiata come all'andata contro l'Udinese ragazzi Non avevo parole ragazzi Però almeno questa volta contro l'Udinese non abbiamo fatto minchiate 2-0 tenuto per bene ragazzi Qualche altro gol secondo me potremmo segnarlo ragazzi Però di ricola mia sono contento con un 2-0 ragazzi Sono contento con un 2-0 ragazzi Di Bala segna sempre ragazzi Di Bala è secondo me il giocatore oltre a Chiesa Più importante della squadra ragazzi Questa cosa è palese, questa cosa ragazzi è palese Ha preso un pallone di piatto Padelli non ha preso niente ragazzi Bellissimo gol, imbucata abbastanza bella Ovviamente il secondo gol di testa McKennie, bellissimo cross E ha preso così Padelli ancora non può niente ragazzi Vittorio importantissimo In questo istante siamo ancora quinti in classifica ragazzi Stiamo a 8-9 punti Dalla Atalanta ragazzi che gioca Domani contro l'Inter ragazzi Cosa può succedere in quella partita ragazzi E' importantissimo sul posto in classifica ragazzi Domani ragazzi se vince l'Inter Secondo me possiamo essere in teoria quarti ragazzi Ma secondo me resteremo quinti ragazzi Perché ovviamente l'Atalanta è distante molto da noi ragazzi Ovviamente dobbiamo sperare che le prossime 3 partite 3-4 partite Le perde tutte ragazzi Cosa ovviamente molto improbabile E poi chi lo sa Può anche vincere contro l'Inter ragazzi Dobbiamo stare a vedere ragazzi Musiamo ragazzi forse sempre Vittoria meritata ragazzi Contentissimo Qualche gol in più Morata Kuluseski Secondo me Potevano farlo ragazzi Però Contento ragazzi Adesso pensiamo alla San Pedro In Coppa Italia ragazzi Partire è estremamente difficile In Coppa Italia ragazzi Specialmente la prima Specialmente la prima ragazzi Non è facile Però se ce la mettiamo tutte ragazzi E giochiamo come si deve Secondo me è fattibile Ragazzi forse io sempre Dai ragazzi Dai fino alla fine Ciao ragazzi Forse io sempre Ciao